Il prossimo 22 febbraio, festa della Cattedra di San Pietro, avrò la gioia di tenere un concistoro durante il quale nominerò 16 nuovi cardinali che, appartenenti a 12 nazioni di ogni parte del mondo, rappresentano il profondo rapporto ecclesiale tra la Chiesa di Roma e le altre chiese sparse per il mondo. Lo ha detto ieri mattina Papa Francesco dopo la recita dell'Angelus da Piazza San Pietro. In totale, quindi, nel prossimo concistoro il pontefice nominerà 19 nuovi cardinali, 16 elettori e 3 arcivescovi emeriti. Preghiamo per i nuovi cardinali, ha concluso il Santo Padre, affinché rivestiti dalle virtù e dei sentimenti del Signore Gesù, buon pastore, possano aiutare più efficacemente il Vescovo di Roma nel suo servizio alla Chiesa Universale. Ma quella di ieri è stata una giornata in importante anche per la coincidenza con la festa del Battesimo di Gesù, che, ha sottolineato Papa Francesco, non aveva certo necessità di essere battezzato, ma i primi teologi dicono che, col suo corpo, con la sua divinità, nel Battesimo ha benedetto tutte le acque, perché le acque avessero il potere di dare il Battesimo. Papa Francesco lo ha voluto ricordare nel corso della Santa Messa presieduta nella Cappella Sistina, durante la quale ha amministrato il sacramento del Battesimo a 32 neonati, 18 femminucce e 14 maschietti. Prima di salire al cielo, ha ricordato il Pontefice, Gesù ci ha detto di andare in tutto il mondo a battezzare. E da quel giorno, fino al giorno d'oggi, questa è stata una catena ininterrotta. Si battezzavano i figli, e i figli poi i figli, e i figli. E anche oggi questa catena prosegue. Facendo riferimento ai piccoli, il Santo Padre ha poi osservato questi bambini sono l'anello di una catena. Voi genitori avete il bambino o la bambina da battezzare, ma tra alcuni anni saranno loro che avranno un bambino da battezzare o un nipotino. E così la catena della fede. Ma ha chiesto Papa Francesco cosa vuol dire questo? E subito la risposta. Io vorrei dirvi soltanto, ha affermato, voi siete coloro che trasmettono la fede, i trasmettitori. Voi avete il dovere di trasmettere la fede a questi bambini. E la più bella eredità che voi lascerete loro, la fede, soltanto questo. Di qui l'invito. Oggi portate a casa questo pensiero. Noi dobbiamo essere trasmettitori della fede.